Hanno approfittato dell'assenza dei proprietari per tentare di svaliggiare un appartamento in via Miternum reso inagibile dal sisma dell'aprile 2009. È accaduto all'Aquila, in via Miternum, in una delle vie più popolose della città. Ma il tempestivo intervento dei carabinieri dell'Aquila unitamente a quelli di Calasso ha fatto sì che il piano criminale non andasse in porto. In flaglanza di reato sono stati così arrestati per furto aggravato in abitazione e ricettazione due cittadini extracomunitari, uno di nazionalità tunisina residente a Lucoli e l'altro di nazionalità marocchina in Italia senza fissa dimora. Da diversi giorni in realtà i carabinieri dell'Aquila tenevano sotto controllo questo condominio perché nei giorni scorsi era stato già oggetto di attenzione da parte dei ladri. I militari si sono accorti che il portone del condominio, che è composto da 12 appartamenti, era stato letteralmente sfondato e notando dei movimenti strani nei dintorni hanno deciso di incentivare i loro controlli, scoprendo poi due extracomunitari all'interno dell'abitazione mentre tentavano di portare via abbigliamento, libri, cellulari e altro materiale elettronico. Il bottino era già stato sistemato in due borsoni, ma l'intervento dei militari li ha colti in fragranza mentre stavano per andare via. Gli arresti, che giungono a pochi giorni dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, deciso dal prefetto dell'Aquila Francesco Alecce l'8 marzo per l'attuazione di misure condivise adeguate contro l'aumento dei reati contro il patrimonio, testimoniano una massima attenzione posta dai carabinieri in un periodo delicato come questo per il contrasto dei reati predatori in genere e in particolare dei furti in abitazione sempre più numerosi dopo il terremoto.